Chi ha visto il film Enigma saprà che la seconda guerra mondiale fu vinta naturalmente con i muscoli dei militari ma anche con i neuroni di coloro che erano in grado di decifrare i codici e che riuscirono ad avere spesso la meglio dei sistemi di comunicazione tedeschi giapponesi e italiani. Si calcola addirittura che senza l'aiuto di questi decifratori di codici la battaglia dell'Atlantico e lo sbarco in Normandia non avrebbero potuto esserci o perlomeno non così con successo e la guerra addirittura avrebbe potuto trascinarsi fino al 1948. Che cosa si faceva? Cosa facevano questi decifratori di codici che erano veramente dei veri e propri logici applicati? In realtà i tedeschi avevano inventato una macchina che si chiamava per l'appunto l'Enigma ed era la macchina che diede il titolo prima al romanzo e poi al film del quale ho appena parlato. Questa macchina era una cosa abbastanza complicata, aveva delle rotelle attraverso le quali passavano dei fili elettrici e i tedeschi battevano su una tastiera i loro messaggi che venivano codificati e grittati attraverso queste rotelle in una maniera molto complicata. C'era un numero enorme di possibili combinazioni che questa macchina poteva dare e si trattava di riuscire a decrittare i messaggi che venivano lanciati. Gli inglesi furono coloro che riuscirono in questa impresa in un posto che si chiamava Bletchy Park, riunirono una gran varietà di personaggi interessanti perché bisognava mettere insieme tutte le possibili intelligenze dell'Inghilterra. Uno di questi personaggi era Ian Fleming, molto noto naturalmente perché fu colui che poi scrisse i libri sulle avventure di James Bond e in questi libri tra l'altro si ritrovano molti degli echi dell'attività che si svolgeva in questo centro di ricerca di Bletchy Park. Un altro dei partecipanti a questa impresa era il campione nazionale di scacchi, Alexander, campione inglese. C'erano anche altri personaggi, per esempio Chadwick che poi dopo la guerra divenne famoso perché riuscì a decrittare un altro tipo di messaggio, un altro lavoro di decrittazione, cioè quello della lineare B, la misteriosa scrittura minoica di 3500 anni fa che poi si rivelò essere in realtà una forma di greco antico. Perché stiamo parlando di queste cose? Naturalmente c'è questo atteggiamento, questa connessione con la logica alla quale ho accennato, però il personaggio più importante che tra l'altro è anche il protagonista del film Enigma e del romanzo era un vero e proprio logico, si chiamava Alan Turing e fu colui che riuscì in realtà a mettere in piedi questo lavoro di decrittazione e a far vincere praticamente la guerra agli alleati, o perlomeno a contribuire in maniera sostanziale facendo un lavoro di natura logica a far vincere questa guerra. Come mai Turing fu coinvolto in questa attività? Turing nel 1936, anche lui ha 23 anni, dico anche lui perché è la stessa età alla quale Gödel aveva dimostrato il suo primo famoso teorema, ebbene diceva a 23 anni nel 1936 Turing diede la sua tesi di laurea e questa tesi di laurea dimostrò risolse un altro famoso problema della logica matematica che era stato posto da Hilbert nel 1928. Abbiamo parlato nella scorsa puntata delle soluzioni che Gödel diede ai problemi della completezza e della consistenza, dimostrando che in entrambi i casi essi non erano risolubili, la matematica era sostanzialmente incompleta e non si poteva dimostrare la sua consistenza. Quello che Turing fece fu affrontare un problema diverso del quale parleremo oggi, cioè il problema della decidibilità. Come si fa a decidere un problema di natura matematica? Una parola che ormai è entrata nell'uso comune si chiama algoritmo, che deriva dal nome di un famoso matematico medievale che si chiamava Al-Qwarizm, che significa semplicemente discendente originario di un paese Qwarizm. Ebbene, dicevo, la nozione di algoritmo è la nozione fondamentale per la soluzione dei problemi di matematica, per la loro decisione. Moltissimi algoritmi sono ben noti anche agli ascoltatori. Per esempio, se io chiedessi all'ascoltatore di risolvere un'equazione di secondo grado, molti ricorderanno, o ricorderebbero, la formula che hanno imparato nelle scuole, meno B più o meno radice quadrata di B al quadrato meno 4C diviso 2A. Chi non se lo ricordava se la sarà ricordata adesso. Questo è un tipico algoritmo che permette, in maniera meccanica, una volta che noi ci troviamo di fronte a un'equazione di secondo grado, di prendere i coefficienti e di fare dei calcoli per vedere se ci sono le soluzioni e nel caso che esse ci siano, per scoprire, trovare quale essi siano. Il problema è che quando l'algoritmo c'è, quando il problema è effettivamente decidibile, allora basta semplicemente esibire uno di questi algoritmi e si mostra che il problema è decidibile, si mostra la sua decidibilità. Quello che Hilbert aveva cercato di fare, che appunto aveva chiesto nel 1928 fosse fatto per la logica, era di trovare un algoritmo che permettesse, data una formula della logica, di decidere se questa formula era vera oppure no, o come si diceva in gergo tecnico, se era valida oppure no. Abbiamo detto che il suo primo teorema importante Gödel lo dimostrò nel 1930 mostrando che la logica era completa, cioè il fatto di sapere se una formula sia o no una verità logica è equivalente per il teorema di completezza di Gödel del 1930 a chiedersi se essa si può dedurre dagli assiobi dei principi a matematica. Attenzione stiamo parlando della parte soltanto logica dei principi a matematica perché poi l'altro teorema, il teorema di incompletezza invece di Gödel mostra che per quanto riguarda le verità, le formule matematiche o già le formule aritmetiche questo non è più vero, però per la parte logica sì e quindi effettivamente c'è una descrizione assiomatica di tutte le verità logiche. Quindi il problema della completezza è stato risolto da Gödel nel 1930. Ora quello che Hilbert chiedeva invece di fare era questa volta di vedere se non soltanto la logica fosse completa ma addirittura fosse decidibile, se fosse cioè possibile trovare un algoritmo che permettesse di decidere data una qualunque formula se questa fosse o no una verità logica e dunque per il teorema di completezza se fosse o no un teorema della parte logica dei principi a matematica. Ciò che nel 1936 il giovane Turing dimostrò invece fu che il problema non è risolubile, cioè non esiste nessun algoritmo che sia in grado di decidere quali sono le verità logiche. Però la cosa interessante è che un conto è esibire l'algoritmo quando c'è e un conto è invece dimostrare una volta per tutte che non soltanto non c'è oggi, non è ancora stato trovato un algoritmo ma non lo si troverà mai. Questa è una dimostrazione negativa che naturalmente richiede una nuova idea perché bisogna far sì che si possono escludere tutti i possibili algoritmi passati, presenti e futuri dalla possibilità e allora bisogna in qualche modo dare una caratterizzazione preventiva di tutti i possibili algoritmi e poi far vedere che nessuno di questi algoritmi è fruibile. E quello che Turing fece fu questo e la sua caratterizzazione degli algoritmi possibili è una caratterizzazione che letteralmente ha cambiato il nostro mondo. Ho concluso pochi minuti fa dicendo che la caratterizzazione che diede Turing della nozione di algoritmo cambiò letteralmente il nostro mondo e si può pensare che ormai alla fine quasi di queste nostre chiacchierate il cervello dell'oggio che sta parlando sia un po' a corto di batterie e che ci sia anche un po' di delirio di potenza in queste affermazioni ma in realtà appena adesso spiegherò ciò che volevo dire credo che gli ascoltatori saranno d'accordo con ciò che ho detto perché la nozione di algoritmo che Turing diede è semplicemente la nozione di un qualche cosa che si possa programmare su un computer. Bella forza uno dirà beh certo oggi non sarebbe difficile dire queste cose perché i computer ce l'abbiamo davanti ma qui siamo nel 1936 i computer non c'erano e per poter parlare di ciò che si può programmare con i computer bisogna inventare il computer e quello che fece Turing nella sua tesi di laurea a 23 anni fu precisamente questo non è tanto la soluzione del problema della decisione soluzione negativa tra l'altro del problema della decisione per la logica che Hilbert aveva posto quello che ci fa ricordare Turing l'ha fatto passare alla storia ma il fatto che nel tentativo poi riuscito di risolvere negativamente questo problema Turing dovete dare una caratterizzazione di tutti i possibili algoritmi e per farlo si inventò questa macchina che oggi ha veramente cambiato il nostro mondo ed è il computer allora l'idea di Turing fu di progettare sulla carta un computer universale c'è una macchina che fosse in grado di fare tutti i possibili calcoli che mai si sarebbe potuto fare l'idea di Turing è un'idea geniale che però come spesso succede era stata anticipata di circa un secolo da un signore che si chiama Charles Babbage nel 1837 aveva già abbozzato più o meno il progetto di Turing solo che mentre Turing pensava a un calcolatore che come oggi noi lo chiamiamo era un calcolatore elettronico cioè basato su circuiti elettrici su valvole su fili e così via nel 1837 questo non era ancora possibile si era prima della teoria dell'elettromagnetismo quindi non si conosceva ancora bene l'elettricità e allora l'idea di Babbage era un computer a vapore pensatevi nel 1837 se le cose fossero andate come Babbage sperava cioè se il governo avesse finanziato effettivamente queste sue ricerche l'Inghilterra sarebbe anzitutto diventata la prima potenza informatica 100 anni prima di quanto non lo fece invece gli Stati Uniti verso gli anni 40 1945 e soprattutto avremmo avuto per un centinaio di anni sul tavolino o probabilmente credo nel retro della nostra casa perché questi non erano certamente computer miniaturizzati un computer a vapore l'idea di Babbage però era esattamente la stessa di Turing cioè si trattava di capire che nel momento in cui una macchina raggiunge una complessità sufficiente raggiunge quella che si potrebbe chiamare in termini fisici una massa critica e la massa critica significa che la macchina è in grado di prendere delle istruzioni codificate e poi di simulare il programma che queste istruzioni codificate codificano quando dicevo questa macchina raggiunge una massa critica diventa automaticamente una macchina universale questa è una concezione completamente diversa da quella dei calcolatori tascabili per esempio che fino a qualche anno fa ancora circolavano i calcolatori tascabili erano in grado di fare certe operazioni nel momento in cui si volesse un calcolatore più potente che facesse altre operazioni bisognava comprarne uno più forte più caro naturalmente e anche più grosso quello che Turing capì è che arrivati ad un certo punto quando si raggiungeva una certa massa non era più necessario comprare calcolatori via via più grandi perché questi calcolatori diventavano programmabili cioè c'era una specie di trade off come si direbbe oggi in inglese tra il volume della macchina e invece il fatto che si potesse non aumentare il volume semplicemente inserendo alla macchina un nuovo programma l'idea della macchina universale permise a Turing anzitutto di risolvere negativamente il problema della decisione per la logica e poi in qualche modo gli diede lo spunto per capire che si sarebbe potuto far fare alle macchine molte delle cose che fino all'epoca erano state riservate all'uomo quindi durante la guerra ed è di qui che siamo partiti per raccontare la sua storia durante la guerra Turing incominciò a mettere a frutto queste intuizioni cioè di far lavorare le macchine a fini di calcolo e in quel modo riuscì a decodificare decrittare i codici tedeschi che venivano fatti attraverso l'enigma ma dopo la guerra anche gli stati uniti si erano accorti che c'era una necessità di fare un numero enorme di calcoli loro se ne erano accorti per motivi diversi cioè durante la costruzione della bomba atomica allo salamos e allora negli anni dopo il 45 tra 45 e 50 da una parte negli stati uniti e dall'altra parte in inghilterra in gran bretagna si cercò di costruire un calcolatore che avesse le caratteristiche che aveva in qualche modo divinato o indovinato nel 1936 l'inghilterra non si dimostrò all'altezza impedì a Turing di costruire un computer universale voleva semplicemente costruire certe macchine via via più potenti non aveva capito la novità che stava dietro all'idea di Turing negli stati uniti invece c'era una persona uno dei grandi matematici di metà secolo che si chiamava von neumann che ben conosceva Turing il suo lavoro perché Turing dopo la laurea era andato a studiare a Princeton dove von neumann era professore e von neumann riuscì a convincere il governo degli stati uniti che bisognava costruire una di queste macchine universali e effettivamente fu quello che gli stati uniti fecero e così nacque l'informatica riuscendo a costruire fisicamente una versione della macchina di carta che Turing aveva inventato nel suo lavoro giovanile Turing però continuò a pensare ai problemi legati al computer e quello che fece fu di cercare di capire fino a che punto si sarebbero potuti spingere questi computer e inventò quello che oggi è il sogno è chiamato il sogno dell'intelligenza artificiale cioè l'idea di Turing era non soltanto di usare una macchina che fosse in grado di fare una gran quantità di calcoli di tipo matematico ma addirittura di riuscire a far simulare a queste macchine delle parti essenziali del pensiero umano Turing pensò immediatamente a una delle possibilità cioè per esempio il gioco degli scacchi fu lui che scrisse il primo programma per computer degli scacchi giocò contro questo programma a mano perché ovviamente non c'erano ancora i computer su cui si potesse far girare questo programma il computer perso immediatamente perché era un programma estremamente rudimentale però sappiamo tutti che almeno in questo campo oggi il computer è diventato più forte di qualunque uomo ha battuto più di una volta il campione mondiale Kasparov e effettivamente in questo campo l'intelligenza artificiale è stata realizzata ci sono naturalmente molti altri campi agli inizi e negli anni 50 c'era un po un ottimismo sfrenato si pensava che il computer sarebbe riuscito per esempio a dimostrare grossi teoremi di matematica cosa che finora non è riuscito a fare però certamente l'uso combinato da una parte dell'intuizione matematica dell'uomo e dall'altra parte della potenza di calcolo del computer hanno permesso effettivamente di raggiungere risultati importanti in campi che non sarebbero stati possibili senza questa combinazione abbiamo parlato quando abbiamo accennato alla vita di Poincaré del fatto che il caos deterministico proprio perché non lo si può risolvere in maniera analitica in maniera diretta viene oggi studiato attraverso simulazioni del computer e tutto questo tutti questi sviluppi sono nati dal tentativo di Turing di risolvere un problema di natura logica cioè la decidibilità della verità logica attraverso un algoritmo radio 2 pod punto rai punto it libera la radio